Ciao a tutti ragazzi, qua dagli Alcatraz sono... lo sentite anche voi, un rumore alieno nel mio giardino e non capisco cos'è, queste sono le mie dita, le mie scarpe e non capisco... altre scarpe ma sei in pezzo di merda pensavo che c'era un lufo, va bene ragazzi, questa sarà a mistero nelle prossime puntate più forte ora viene a scurreggio a Gadman è precipitato il nostro wufo, bello a tutti ragazzi, qua dagli Alcatraz